Se hai un motivo per amare, quello che pensi sia amore non è amore, perché il tuo amore sarebbe sotto condizione. Se c'è una condizione, finisci per avere un'aspettativa e necessariamente prima o poi sarai deluso. E dove c'è delusione c'è pressione, c'è lotta, c'è incomprensione. Invece noi sappiamo che non saremo mai delusi perché l'amore è stato riversato nei nostri cuori, lo Spirito Santo ci è stato dato e quello non ci deluderà mai. Dunque l'amore è la persona di Dio ed è in noi lo Spirito Santo. L'agape, questo amore divino, non ha ragione di essere se non perché è amore. Non ha condizione, non ha obbligo, non dà delusione, non provoca pressione. È un generoso movimento dell'uomo verso un altro uomo per il bene dell'altra persona. Voglio darvi alcuni punti. L'agape dunque è una persona, questa è la cosa più importante. Nell'agape non puoi caderci dentro, non puoi innamorarti. L'agape è qualcosa che viene verso di te e ti riempia finché tu la dia a sua volta. L'agape è una persona, è versata nei nostri cuori. Punto numero due, l'agape è l'amore responsabile, maturo, è l'amore che resiste, è l'amore che non finisce a causa di tempeste, a causa di intemperie, a causa di acque profonde, di fiumi travolgenti. L'agape non finisce perché intorno a noi cambiano le circostanze. L'agape, punto numero tre, prende sempre l'iniziativa. L'amore è ciò che inizia le cose. L'amore dunque è incondizionato. Se non fosse incondizionato sarebbe una reazione. L'amore non è mai una reazione, è sempre un'azione che inizia qualche cosa. Sappiamo bene questo perché Dio ha dato il suo unico figlio quando noi eravamo ancora peccatori, perché egli morisse per noi, perché avessimo la salvezza. Non ha aspettato che noi fossimo in qualche modo diversi per poterci venire a salvare. L'amore prende l'iniziativa quando ancora colui che lo deve ricevere non ha alcun merito per poterlo ricevere. L'agape prescinde da tutto e quando non lo meriti inizia e ti raggiunge, inizia a muoversi verso di te. Ancora un altro punto, il numero quattro, è che l'agape è l'amore ragionevole e l'amore non emotivo, dove non c'è motivo per amare. Dio dice che ci ama perché ci ama e questo ci rende sicuri, è la garanzia che non smetterà mai d'amarci. Infatti voglio dirti anche, e te lo dico ora, che l'amore è una decisione. Perché? Perché quando decidi di amare una persona, siccome l'hai deciso tu, senza un motivo, incondizionatamente, cosa può fare quella persona per farti smettere di amarla? Niente, perché non è fondata su nessuna aspettativa, su nessuna condizione. Questa è la meraviglia dell'amore divino in noi. Dunque non trova condizioni. Dio ha tanto amato al mondo, lo ha amato tanto. Giovanni 3,16, Dio ha tanto amato al mondo, quanto? Tanto. Ricordate quando da bambini ci chiedevano quanto mi vuoi bene, tanto, ma tanto quanto? Era impossibile definire il quanto di quel tanto. Dunque Dio ha tanto amato al mondo che ha dato il suo unico figlio, affinché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Dunque ha tanto amato al mondo da dare il suo figlio. Dove c'è l'amore, il dare è permanente. L'amore è dare, perché l'amore è la persona che dà se stessa senza condizione e affinché chiunque potesse avere la vita eterna. Quindi Dio ha dato se stesso quando sperava che tutti potessero accoglierlo senza condizione. Non nell'attesa, nell'aspettativa che qualcuno in particolare rispondesse. Dio non ha dato se stesso sperando che noi avremmo risposto, ha dato se stesso per dare se stesso, perché ci ama. Quindi l'agape non ha misura, l'agape dà senza misura, l'agape non ha alcuna aspettativa. Ecco che dunque abbiamo visto che cosa è questo amore e abbiamo parlato della persona di Dio, delle sue qualità, delle sue caratteristiche. Quanto è lontana la tua vita da questo agape? Quanto è lontana la tua vita dalle situazioni di amore rispetto a quelle che pensavi esserlo, tipo le relazioni di amicizia o le relazioni familiari o anche le relazioni sessuali che può avere anche all'interno del matrimonio dove hai scambiato l'amore per un sentimento, per una convivenza oppure per un atto sessuale. Dio è amore e Dio ti ama e Lui ci ha creati e ci ha fatti in un modo speciale perché a nostra volta noi potessimo essere da Lui amati e potessimo dare l'amore che Lui mette in noi. Lo Spirito Santo che ci è stato dato. Dio quando creò l'uomo, creò l'uomo e parlo dell'uomo spirito prima ancora di metterlo in un corpo fatto di terra, parlando a se stesso. Vedi, quando Dio crea, Dio crea così, parla, pronuncia ciò che ha pensato e questo viene in esistenza. Quando ha creato le piante ha parlato alla terra e la terra che era già stata creata in precedenza ha detto le piante, quando ha creato le stelle ha parlato al cielo, quando ha creato i pesci ha parlato alle acque, quando ha creato gli animali ha parlato alla terra di nuovo. E cioè ogni cosa che deve essere creata da qualcosa che già esiste prima viene creata perché Dio parla la cosa creata in precedenza, perché da essa venga tratta quella successiva. Quando Dio ha creato l'uomo a sua immagine e sua somiglianza, Dio ha parlato a se stesso, Dio disse facciamo l'uomo a nostra immagine, facciamolo a nostra somiglianza perché regni su tutto ciò che abbiamo creato. Dunque ogni cosa per la vita dipende da ciò da cui è provenuta e noi siamo provenuti da Dio in quanto esseri spirituali e Dio poi ci ha messo in un corpo fatto di terra e quando lo nostro spirito ha incontrato il corpo fatto di terra l'uomo è diventata un'anima vivente, spirito, anima e corpo. Dio parlò a se stesso e fece l'uomo come un essere spirituale. Noi siamo fatti a sua immagine e somiglianza, siamo stati creati principalmente per ricevere il suo amore, infatti Dio essendo amore aveva bisogno di qualcuno a cui dare l'amore, il suo unico bisogno era di poter amare e questo dovrebbe essere il nostro unico bisogno, quello che muove ogni decisione, ogni azione della nostra vita. Certo Dio amore per esprimersi deve essere dato, lo ripeto, aveva bisogno di uno come lui per poter esprimere la sua natura. Dio è spirito, aveva bisogno di un uomo che fosse spirito per poter esprimere la sua natura e darsi interamente a lui. L'uomo era il ricevente, il ricevente doveva avere la sua stessa natura, quindi per dare se stesso Dio doveva avere un ricevente come se stesso e per questo parlò a se stesso e creò l'uomo, spirito. Questa immagine che lui creò di se stesso era appunto il suo figlio, i suoi figli a cui avrebbe potuto dare il suo amore, cioè la sua stessa persona venendo a dimorare in loro. Certo che come l'uomo fu creato per ricevere l'amore di Dio, essendo fatto ad immagine e somiglianza di Dio, anche l'uomo a sua volta, una volta soffiato questo spirito umano dentro il corpo fatto di terra per poter avere relazione con le cose fisiche create, aveva a sua volta bisogno di qualcuno di simile da poter amare, perché dentro di noi c'è quel qualcosa, è il nostro spirito, è quel seme divino che non solo non può peccare, ma è quella vita di Dio in noi, è Dio stesso dentro di noi che non può resistere a non amare. Dunque l'uomo aveva bisogno di qualcuno che come lui fosse simile al quale poter dare il suo amore. Ecco perché Dio creò la donna traendola dall'uomo, perché l'amore sia completo e ricevente deve essere come il datore. Dio è spirito e noi siamo esseri spirituali, anche noi dunque siamo amore. E così a nostra volta Dio ha creato traendole da noi gli altri uomini, traendo da Adamo e Eva e da loro tutti gli altri uomini successivamente, affinché simili a loro potessero ricevere il loro amore. Dunque vedremo ora velocemente che noi dobbiamo amare Dio, amare noi stessi ed amare gli altri, perché? Perché è la nostra natura.